Prima di ogni colorazione con i colori ecocolor, è bene impregnare la superficie con ecocolor neutro che fungerà da turapori, quindi impedirà l'assorbimento concentrato in alcune zone delle colorazioni stesse. Ecco che vediamo applicare l'ecocolor neutro sulla superficie che verrà steso con lo spandicera. Ecocolor neutro è un turapori che impiegherà mediamente dalle 2 alle 3 ore per una perfetta asciugatura, solo allora procederemo con la successiva colorazione.